ciao ragazzi allora niente a seguito del video che ho messo sul stupro di miramare che non c'è da aggiungere altro se non solamente una cosa guardando il telegiornale mi è venuta una idea nel senso che sarebbe bello sarebbe bello sapere semplicemente l'idea più che l'idea che cosa ne pensano le istituzioni che difendono a spada tratta dicendo che sono delle risorse e sapere anche per esempio la posizione cosa ne pensa anche per esempio la chiesa che da questo punto di vista loro dicono dal punto di vista umanitario ma qua non c'è niente di umanitario perché si sa perfettamente che da quando sono cominciate l'innalzamento della criminalità è risaputo statisticamente dal punto di vista droga stupri e tanti altri crimini ecco quindi niente sarebbe bello semplicemente ecco che apertamente che facessero una bella conferenza stampa e che dicessero effettivamente ancora se hanno il coraggio di dire semplicemente sì sono delle risorse o effettivamente ci stiamo ridimensionando non siamo più tanto sicuri che sono delle risorse via dicendo perché se dicono che sono ancora delle risorse o hanno una grande faccia tosta diciamo perché ogni giorno che passa non si fa altro che sentire crimini e quant'altro praticamente e quindi niente tutto qui ragazzi ecco una mia curiosità ho detto dopo un servizio dal telegiornale ho detto voglio proprio vedere se per caso qualcuno risponde insomma ecco tutto qui ok ciao ragazzi